C'è un nuovo sospetto nel caso di Maddie McCain, la bimba britannica sparita nel 2007 in Portogallo dalla camera dove dormiva, mentre i genitori cenavano al ristorante. Si tratta di un uomo attualmente in prigione in Germania per altri reati, che all'epoca dei fatti viveva in Portogallo. A 43 anni il nome non è stato risonoto, è già stato condannato per una serie di reati tra cui abusi su minori, furti in appartamenti di vacanza o in hotel e per traffico di droga. Kate e Jerry McCain, genitori di Maddie, hanno detto qualunque sia la verità dobbiamo conoscerla per ritrovare la pace.